E salve a tutti ragazzi, benvenuti tutti quanti su questo nuovissimo video di Fortnite Arena in duo, questa volta in compagnia del nostro carissimo Los Amigos. Quindi ragazzi vi dico subito di lasciare un bel pollicione in su a questo video e se volete altri video in compagnia di Los Amigos fatemelo sapere qui sotto nei commenti, molto molto importante raga, mi raccomando. Dunque in questo video andate a vedere come sono arrivata a 15.000 punti, peraltro la partita la stavamo quasi per perdere, ma ovviamente io essendo la Queen di Fortnite potevo perdere la partita? Ovviamente no, ho risolto con un clutch che era dir poco da bacio, lo andate a vedere nel video per capire di cosa sto parlando. Io vi ricordo inoltre ragazzi che se volete vedermi giocare a Fortnite tutti i giorni o se volete semplicemente stare in compagnia, mi trovate live streaming tutti i giorni dalle 16 di pomeriggio in poi per 8-9-10 ore consecutive su Twitch, sul mio canale Twitch. Lo trovate qui sotto in descrizione, stessa cosa vale per il mio profilo Instagram, seguitemi, link in descrizione. Ma ora ragazzi non perdiamoci in chiacchiere perché abbiamo parlato fin troppo ed è il momento di andare a vedere delle giocate davvero davvero eccezionali. Quindi ragazzi buona visione, buon video, godetevelo e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Buona visione ragazzi. Se quello è un pompa è mio, ok non è mio vaffanbrodo, non è un pompa. Eeeh ci sono. Ho aperto la casa, cosa ho trovato? C'è chi nato uno, sono troppo forte. Tiene uno one shot che è stappato. Però son chill. Uff che armi. What the? Come non deve? Ho fatto un altro. Ho iniziato questo game con un cecchino eh. Guarda ragazzi come son messo. Uno l'ho cechinato subito, questo poi gli ho fottuto il pompa. Sono talmente scandalosi che vanno accovacciati. Vabbè nessun problema Los. No problem, no problem. Che loot che vedo lì. Ora sì che winniamo. Beh, tutto salvato, hanno fatto i due col cecchino quindi... Arriva gente. Chechiii. Sei sotto? Cosa sta lei qui? Mi vorrei tirare due shieldini. È una no armi. È bloccato. Madre mia. Vengo giù allora. Vengo giù, vengo giù. Siamo a 2-1. Non voglio riscarlo. Ho preso la card. Staccato, vera card. 43 bianco gli ho fatto. Dov'è? È in high. Non posso... Cioè io non ho nulla eh. 32 bianco. Uno di vita c'ha. Un colpo. Ok. Devi fartelo da solo, non posso salire io. Muoi. È caduto. Basta, basta, basta. Ok, devo farmi il fallo subito. Ecco perché non mi arriva. Si era fatto tipo... Si era fatto flopper. Perché aveva ancora un flopper. Quindi era pieno di flopper questo. Il fallo si è spento e io ho 99 di vita. Mamma che rosicata. Mamma che rosicata. Mamma quanto sto per piangere. Mi serve uno shield, l'osso. Ti prego. Mi sento che morirò a breve. Ma ci sono, guarda, sei funghetti lì. Però non ho cure. Mi sto portando cure. Letteralmente zero cure. Un lama. Lama donna. Hai bisogno di mezzo. Aspetta. Mannaggia. Con un nil. Ok. Fammi un attimino qui. E ci siamo. Ci senti lì. Poi se preferisci l'arpione ti do l'arpione. Come vuoi. A me non cambia niente. No. Non riesco il cecchino. Il buon vecchio cecchino. Quando vuoi. Eh, t'avvi. No, ce l'ho visto sicuro. Sì, è nel bush. Nel bush che ci sa che siamo qua. Fidati. Treggio. Vabbè. Dopo treggio. Dopo treggio. Treggio. È finato da qualche parte. Sì, sì. Il bush comunque. Bianco, 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 bianco. Vabbè, è andato. Ecco. Forza, mi viene. Si è salvato. Lo stavo con And. No, cado. Ma, eh. La miglia è sotto. Qua, qua, qua. Coming. Ma basta. Un momento che no. È nel tetto. C'è l'altro qua, eh. Mi devo curare un attimo? C'è un altro big se ti serve? Siamo circondati. Eh, sì. Allora, faccio una cosa. Faccio un attimo. Faccio un attimo dei box in metallo perché non mi fido io? Se vieni da me evitiamo quel panino. Ma io non sto male qui, eh. Oh, è noccato. Io sono cì. Sì. Dove vai? Qua, qua, qua. Eh, l'ho noccato, compagno. Questo qui è destra. Ok, arrivo, arrivo con te. C'è uno nel box? Bianchissimo. Mamma mia, come Dios. Oh, io, 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 io. Torniamo un attimo indietro? C'erano gli shieldoni? Sì, sì. Esatto, bravo. Dai che oggi sento che siamo fluidi. No, vabbè. Hai parlato. Mi devo andare a rimanere i mazzi di là. Pusciano, eh? È bianco, bianco. È stato craccato. Lo so, lo so. Tengo ai, tengo ai. Ah, come scappa? Qua, no, cato. Lo buscio. No. L'altro è sotto, qua sotto. Ok. Caduto? Qua da me è l'altro. Arrivo? Sì, è entrato da lì tipo. Era qui. È qua. Lo scopero. Penso tre li ho fatto. Ok, è morto. Allora, c'era un big tipo qua per lei, signor loss. Eccolo qui, lossino. Però non ho legna, c'è ho zero. Sto piangendo, ho le lacrime. Uh, qua c'è legna. Da te? Oh, gente sopra? Noi siamo nel chilling qua. Abbiamo... Abbiamo 300 di mattone di ferro. Andiamo. Da me, da me, da me. No, è... Vabbè. Mamma mia! Sono una c***o di bestia. Ma solo perché aveva il tattico. Non c'è nulla da dire riguardo. Punto. Guarda che bella pecorella, loss. Ma io ero lì con te e sei sparita. Io non so. No, no, io ero sotto di te. Mi ero sotto di me, mi ha fatto cadere. Io c'ho tre cure, quindi sono proprio nel chilling. Ma tu non vuoi quella leva viola che ti piace tanto? No, e se non avessi avuto il tattico, puoi avere perso il fight. Io posso aspettare dove l'ha safe perché ci fanno il panino. 39. Vabbè, intanto è un pochino. Dietro, 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 dietro. Due team si stanno fettando. Sono isolati. Bello, bello, mi piace. Li vedo, vedo. 35 blu. 35 bianco, bianchissimo. 35 bianco di nuovo. Lei, 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 la tizia. Un altro qua dentro. L'ho boxato. Tarkado, bianco. Sono entrambi bianchi. Da me, da me, da me. Apri. Aspetta, lo snicciamo, ok? Vai, vai. Però devi coprirmi. Vado. Ma è sopra? E non lo vedo. È dietro, qua, nel bush. È dietro. 24 bianco, 40. 20 blu. Crackado, 84. 37 morto. Mamma mia, lo snor. Oggi proprio spacchiamo, eh. Questo è il primo game, ma anche. Siente lì, guarda. Andiamo, stanno fettando. Sono 2 v 1, loro. Ne metto un'altra. Ok, siamo 2 v 2. Vabbè, vedo... Stato su quella montagna, perché... Ecco lì davanti a me. Allanciarazzi, questo. L'altro è lontano col cecchino. L'altro è lontano col cecchino. Oh no, l'avevo qualche tornato. 81. Vabbè che l'altro ci può buttare giù, eh. Vedere dove l'altro. Si sta prendendo lo scildone, non va bene. Di pezzato? Betta giù, credo. Betta giù, forse. Sì, scendo un pò. 37, blu. Arrigo. L'altro è sotto. Sono cil, sono cil. Sta salendo. E i sogni sono scesa. Oh, devo con atto. Ok. Oh my god. One shot, one shot. Morto. Bravo. Sì, ritaino. Dietro, dietro. Curati. Tu faccio le flash io. Fatti i mini. Cambia box, cambia box. Flopper. Vai, sparlateli. Sono in high. Dopo di lui. E lui dov'è? Sto scendo un pò, ok? 25. Andato a pull low. 35. Mamma mia, abbiamo spaccato sto game. Gli, 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 gli. Da canale, wex. Da canale pesante. Più. Più, più. Questo era il primo game della giornata. Sia per me che per l'ossi, penso. Anche per te? no 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 in duo in solo arena beh in questi casi sai come si dice